Stabili i ricoveri per Covid-19 in provincia di Teramo. L'azienda sanitaria teramana comunica i dati ad oggi. 147 ricoverati, 10 in terapia intensiva, scende l'età dei contagiati che va dai 30 ai 50 anni. Il tasso di positività degli ultimi giorni si attesta al 6,12%, mentre la variante inglese rappresenta il 66% e vengono confermate come zona rossa i comuni di Colonnella, Nereto, Sant'Egidio e Sant'Omero. Intanto, al Mazzini di Teramo iniziano le prime cure monoclonali per i positivi asintomatici. L'Astra inoltre dà il Vialcov, una centrale operativa vaccinale che avrà come scopo pianificare le operazioni della vaccinazione di massa e dare risposta ai cittadini. Nasce il Cov, che cos'è? È una struttura all'interno della quale sono presenti tutte le figure che sono determinanti nella programmazione di quella che è la campagna vaccinale. È una struttura operativa, all'interno ci sono rappresentanti dei medici, il personale del comparto, degli amministrativi, c'è il responsabile dei team vaccinali, c'è il direttore sanitario e ci sono altri miei collaboratori, il dottor Piccone, la dottoressa Di Virgilio, responsabile dei presidi, che ripeto, ricevono e organizzano la campagna vaccinale e ci sono dei numeri, una mail, diciamo, che serve anche per raccogliere quelle che sono le richieste, le necessità, le domande dei cittadini. Intanto si vaccina a Pasqua e a Pasquetta. Una sorta di solidarietà che vogliamo in qualche modo portare avanti, cioè a vaccinare, i team vaccinali saranno formati dalla direzione strategica e da tutte di quelle figure a livello di presidio, che partono dal direttore di presidio, dal responsabile del comparto, in modo da dare la possibilità ai medici che fino ad oggi sono stati in prima linea di avere qualche ora di riposo. L'asla di Teramo in questa complessa fase vaccinale può vantare già dei primati e tra le primissime aziende sanitarie italiane ad iniziare la vaccinazione ai 3.000 ultraottantenni allettati direttamente nelle proprie abitazioni ed è la prima in Abruzzo ad aver vaccinato già tutti gli operatori della scuola. Siete i primi ad aver vaccinato già tutti gli operatori della scuola? Vabbè, siamo i primi in tutta la regione, questo però è il merito. Noi andiamo avanti, ecco, grazie a tutta l'organizzazione che ci siamo dati, anche a questo nuovo organismo che abbiamo costituito all'interno dell'azienda per monitorare, come possiamo dire, per spingere sempre di più la macchina vaccinale, questo è il nostro scopo. Lei è soddisfatto a questo punto? Abbastanza, quando c'è una bella squadra che lavora la soddisfazione è per tutti.